E' illegittimo il silenzio rifiuto dell'amministrazione sull'istanza di accesso agli atti riguardante la domanda di emersione dal lavoro irregolare. Nel caso di specie non vi è ragione alcuna per negare l'accesso ai documenti richiesti, atteso che non sussiste alcuna motivazione di riservatezza. Inoltre la ricorrente ha comprovato in modo idoneo di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere agli atti, che corrisponde ad una situazione giuridica da tutelare e appunto collegata ai documenti dei quali si chiede l'accesso, in quanto alla necessità di conoscere gli atti relativi al procedimento di emersione dal lavoro irregolare legati alla sua domanda di sanatoria.